Tifosi sì, delinquenti no. Una conferenza stampa per dare la propria versione di quanto accaduto nella gara contro il Barletta. I tifosi della Curva Nord, Franco Mancini, precisano le proprie motivazioni riguardo gli scontri con le forze dell'ordine del 20 dicembre scorso e lo fanno in presenza del proprio avvocato. Si è sentita soltanto una campana, sostengono i tifosi attraverso il proprio portavoce, e si è giunti a conclusioni troppo affrettate. L'avvocato Treggiari, che ha sposato la causa dei supporters rossoneri, pur senza accusare la controparte, ha specificato che le forze dell'ordine hanno sicuramente lavorato in buona fede e secondo quelli che erano gli ordini, con l'aggravante però derivata dalla perdita del controllo della situazione, sfociata poi negli scontri in presenza di donne, anziane e bambini che hanno dovuto subire lacrimogeni e manganellate, ingiuste secondo i tifosi organizzati, che hanno mostrato una foto nella quale si ritraggono gli istanti precedenti a quelli incriminati, con la squadra rossonera sotto la curva per il tributo di fine partita e le forze dell'ordine pronte all'assalto. Secondo la voce del tifo organizzato, ma anche secondo gli scatti raccolti e mostrati, non ci sarebbero le motivazioni poi dichiarate dal prefetto, che avrebbero voluto tifosi in procinto di mettere in atto scene di guerriglia contro i supporters barlettani. La pioggia di Daspo, già 22 e con altri in arrivo, sarebbe altrettanto ingiusta in quanto lo stesso è un provvedimento preventivo e non repressivo, per cui secondo il legale ci sarebbero le condizioni per poter andare avanti in difesa del tifo e della fede rossonera.